Ciao ragazzi bentornati, bentornati in un nuovo video, bentornati in un nuovo appuntamento qui con il vostro Marco Verdoliva e dopo il video del FAQ, dell'MV FAQ, dove vi ho accennato una cosa riguardo agli alimentatori mi è venuto in mente un lampo di genio, ho detto ma perché non facciamo un video dedicato su questa questione visto che molti di voi sotto nei commenti del video precedente mi avete detto che sarebbe stata una cosa interessante e quindi eccomi qua a farvi un piccolo contenuto che non vuole assolutamente essere una videoguida o un consiglio agli acquisti eccetera eccetera ma vedremo semplicemente alcuni concetti secondo me fondamentali che vanno chiariti una volta per tutte sul tubo e vedremo anche quelle che sono alcune pratiche o comunque alcune buone norme da tenere in considerazione per far durare più a lungo sia il vostro alimentatore che le vostre componenti in generale ma prima di iniziare ragazzi iscrivetevi a questo canale io ho bisogno di voi per arrivare ai 20.000 iscritti perché faremo una mega festa, una mega live sul canale Viola mi raccomando venitemi a trovare sul canale Viola e andate qui in descrizione perché c'è il nostro gruppo e il nostro canale Telegram delle Offerte MVR Offerte allora mettiamo subito in chiaro una cosa capire se un alimentatore è di buona qualità va fatto in un certo modo perché purtroppo l'alimentatore è uno di quei componenti che una volta che voi lo mettete nel computer e lo accendete non avete nessun modo per capire se sia o meno un alimentatore di buona qualità oppure no non basta accendere, vedere che il computer parte, fare uno stress test e dire vabbè l'alimentatore regge quindi è buono perché in alcuni casi anche gli alimentatori da 30 euro vi possono reggere delle build diciamo abbastanza economiche ma non è detto che lo stanno facendo nel modo giusto proprio perché il lavoro di un alimentatore in realtà è un lavoro nascosto quindi non è visibile agli occhi di tutti noi ci siamo attrezzati, io Patrick, il primo ovviamente è stato Falco con una serie di strumenti per andare a vedere quelli che sono degli elementi fondamentali nel funzionamento di un alimentatore come possono essere i voltaggi delle tensioni come possono essere i segnali di disturbo, il cosiddetto ripple come può essere l'innesco o meno di alcune protezioni proprio per cercare di capire quali alimentatori siano buoni e quali siano da scartare il consiglio generale è quindi quello di valutare bene un prodotto sulla base di recensioni che siano diciamo minuziose nel funzionamento dell'alimentatore e soprattutto è quello di non andare a risparmiare troppo perché un alimentatore decente, se voi spendete 20-30 euro in più per un alimentatore sappiate che è un investimento che voi fate una volta e probabilmente quell'alimentatore ve lo terrete per una, due, tre build nel mio computer ad esempio io ho un HX850i un alimentatore Corsair Platinum che io ho comprato ben quattro anni fa e questo alimentatore ha visto il 7700K, il 1800X, il 2700X, il 9900K, il 3900X ha visto schede video come la 1080, la 2080, la 3080, sta ancora là non l'ho mai cambiato, ho fatto quell'investimento di 170 euro all'epoca e l'alimentatore non si è mai mosso dalla mia build non lo cambio da quattro anni ovviamente per poter sfruttare anche a lungo un alimentatore che sia di buona qualità bisogna tenere un attimo d'occhio alcune piccole accortenze diciamole così, buone norme che a mio avviso sono necessarie per poterlo ottenere a lungo il primo è quello di azzeccare il vattaggio il vattaggio ovviamente va considerato sulla base delle componenti che voi andrete a montare e non usate quei siti beceri dove voi inserite le componenti e vi tirano fuori un ipotetico ok? consumo del vostro pc perché sono dei siti fatti malissimo e tante volte non tengono in considerazione alcuni parametri fondamentali vi faccio un esempio il 10600K è un processore che in IDOL consuma circa una settantina di watt ma quando voi andate in multicore quindi il processore va al 100% un 10600K arriva a consumare anche 180W adesso che GPU ci avete voi? la 3060Ti? benissimo la 3060Ti andatevi a vedere su Tech Power Up bene o male quando consuma e siamo intorno ai 200W 180 più 200 stiamo a 380 a questo punto consideriamo che scheda madre, hard disk, varie schede di espansione, vendolo e quant'altro led vi vadano a consumare altri 100W sulle rail minori quindi siamo già a 500W andate ad aggiungere almeno un 10% se non di più di range ok? un alimentatore da 550-600W va bene per una build con un 10600K ed una 3060Ti un altro consiglio utile è quello di non fare accrocchi cioè di non mettervi a, diciamo, arrepezzare, come si dice, connettori PCI che invece vanno sui Molex connettori Molex su SATA connettori, diciamo, per far funzionare schede video con l'alimentazione esterna su alimentatori che il PCI Express non ce l'hanno se è un alimentatore il PCI Express non ce l'ha, un motivo c'è perché probabilmente quell'alimentatore è un alimentatore con un vattaggio troppo basso per poter gestire una scheda video dedicata quindi rischiate che voi ci andate a mettere una scheda video che consuma pure 100-120W e fate il botto e gli alimentatori fidatevi che il botto lo fanno un'altra questione che spesso mi chiedete è se è meglio tenere il PSU attaccato quindi in tensione, nonostante il computer sia spento oppure se è meglio chiudere la ciabatta quindi spegnere l'interruttore completamente quando voi spegnete l'interruttore generale del computer quindi del vostro PSU e lo riaccendete magari dopo un'ora che cosa succede? succede che i condensatori, le armature dei condensatori all'interno del vostro PSU si vanno a ricaricare e in questo diciamo piccolo breve momento che sono dei millisecondi di solito si ha uno spike di tensioni che a lungo andare accendi e spegni, accendi e spegni, accendi e spegni possono andare ad inficiare, ad accorciare la vita dei vostri condensatori quindi il consiglio che noi diamo è di tenere l'alimentatore in tensione senza andargli a togliere corrente è ovvio che però questa pratica deve essere messa può essere tenuta in considerazione lì dove voi abbiate un impianto adeguato lì dove sbalzi di tensione sulla vostra rete non vadano a creare ovviamente più danni del fatto diciamo di scaricare e caricare i condensatori in continuazione quindi io molto spesso dico sì, se riesci tienilo sempre in tensione l'alimentatore ma occhio perché se non hai una buona linea se non hai un buon quadro elettrico se non hai tutti i dispositivi a norma è ovvio che tenere l'alimentatore in tensione su uno sbalzo, diciamo con uno sbalzo sulla rete potete creare diciamo danni quindi tenete in considerazione questo e come si fa ad evitare tutto questo? comprando un UPS allora io vedo sempre più che molte persone considerano l'UPS come un dispositivo diciamo ausiliario di cui si può fare a meno effettivamente sì, è vero si può fare a meno dell'UPS ma io penso che quando noi facciamo un computer da 1000, 1500, 2000 euro tenere un UPS che in qualche modo ci filtri la corrente e ci faccia anche da sostegno energetico nel momento in cui magari va via la corrente è una cosa molto positiva e che dovrebbe essere usato molto più largamente anziché vedere che solo poche persone utilizzano gli UPS è ovvio che vanno acquistati degli UPS decenti magari dei modelli che siano diciamo adeguati ai vostri computer che non siano proprio degli UPS economici e se vi interessa, se volete potete venire tranquillamente sul nostro gruppo e noi magari vi possiamo consigliare degli UPS tra l'altro sul mio gruppo c'è Patrick c'è anche Falco loro ne capiscono molto più di me degli UPS ma io la cosa che vi posso dire è che da quando io ho diciamo da diversi mesi ormai un UPS sotto al computer veramente ho evitato tantissimi problemi relativi a cali di tensione sulla rete, a mancamenti di corrente tutta una serie di cose che possono in qualche modo rappresentare un pericolo per le vostre componenti benissimo, io spero che questo video non sia stato troppo tecnico e che non vi abbia scocciato più del normale io se volete avere diciamo altri consigli più specifici su alcuni temi basta che me lo scrivete io vi ringrazio di essere stati qui con me e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui, sempre su MV Hardware venerdì con una recensione di un bel prodotto che sto testando ok? ciao ragazzi musica 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 musica